Luigi Di Maio e la gaffe sulla Raggi, il sindaco è in Brasile Luigi Di Maio ospite di Dalla vostra parte dice l'ennesima gaffe, la Raggi è in Brasile. Ma il sindaco è in Messico. . Il candidato 5 Stelle era ospite da Maurizio Belpietro a Dalla vostra parte per l'ultima settimana di campagna elettorale, in vista delle elezioni 2018. . Approfittando della presenza del grillino, il conduttore chiede anche conto dell'assenza della Raggi da Roma. . Ma, come si sente nel video, la risposta spiazza conduttore e ospite e va di diritto ad allungare la lista delle gaffe di Di Maio, l'emergenza neve è stata gestita e poi la sindaca Raggi ha continuato i suoi impegni istituzionali, per esempio in Brasile. . Non è che se n'è andata in ferie in Brasile. . Sta portando avanti un forum con altri sindaci di tutto il mondo per portare Roma in dei consessi internazionali. . Ma la Raggi era in Messico. .